Sembrava più agevole di quanto poi si sia dimostrata sul campo la trasferta di Scandicci per il Perugia che non ha saputo offrire una prestazione pari alla sua ambizione di capoclassifica della Serie D. C'è voluta un'invenzione di Frediani al quinto minuto di recupero del secondo tempo per acciuffare in extremi su un pareggio necessario per mantenere il primato in comproprietà con il Casterricone. Il gol scaturisce da un cross dei Zanchi e da una rifinitura perfetta di Frediani che gela all'ultimo secondo lo stadio toscano, speranzoso nella vittoria. I padroni di casa partono convinti dei propri mezzi ed è il Perugia ad andare in affanno. Il vantaggio dei toscani arriva al settimo del primo tempo con Gucci che sfrutta un lancio lungo in area di banchetti e dopo gli interventi mancati di Taccucci e D'Ambrosio insacca davanti a Rionmi. Sul finire del tempo per il Perugia c'è la superiorità numerica. Gabrielli è spulso per doppia munizione ma il gioco non ne risente. Al quindicesimo della ripresa ghiotta opportunità per il Grifo. Atterramento in area di Rampi da parte di Pannelli che provoca il calcio di rigore. Ma Bartolini si fa parare da Cappelli, il portiere di casa respinge poi la ribattuta di Benedetti. Batti e ribatti fino allo scoppiettante finale con il gol che evita una brutta sconfitta. Grazie. Grazie.